Un saluto dal Tg della Mobilità. Con il ritorno della stagione balneare sono state riattivate le due linee bus del litorale 07062. Le due linee per ora saranno attive al sabato e nei giorni festivi. La 07 collega la stazione Colombo della Ferrovia regionale Romalido a Torvajanica Camposcolano, percorrendo la via litoranea confermata in corrispondenza degli accessi agli stabilimenti comunali e privati. La linea 062 collega il porto di Ostia a Castelporziano, percorrendo il lungomare. La linea 062 ha corrispondenza con la Ferrovia regionale Romalido alla stazione di Lido Centro e Colombo. Nel corso della stagione balneare le due linee di bus saranno potenziate, mentre dalla seconda settimana di giugno sarà attivata anche la linea bus 068, che collega la stazione di Acilia della Ferrovia regionale Romalido a Torvajanica Camposcolano, percorrendo come la 07 la via litoranea. E tutto appuntamento alla prossima edizione.